Emanuele Bandamura dal Ring alla lotta contro le tossicodipendenze. Cosa un campione come te può dire? Giovani Cerignolani tra l'altro, i tuoi conterranei di origine. Posso dire che le dipendenze possono essere... C'è molte dipendenze, ma forse le dipendenze più belle sono quelle legate allo sport. La mia dipendenza è legata al pugilato, e quindi penso di essere una persona veramente felice di essere dipendente dal pugilato. Quindi lo sport è un qualcosa che forgia sia nello spirito che nell'anima e nel carattere. Io ho 37 anni e oggi sono il nuovo campione d'Europa e questo è stato perché ho una dipendenza di 20 anni legata a questo stupendo sport. Quindi mi sento dire ragazzi avvicinati allo sport perché dà passione, dà gioia, i sacrifici, il successo e quant'altro. Lo sport è un insegnamento per la vita. Quali sono i segreti per farcela comunque anche quando sei appunto alle corde in questo caso come te? Nel mio caso è stato quello di non arrendersi mai. Vuol dire che nella vita c'è sempre un'opportunità per tutti. Basta saper guardarsi dentro, scoprire la propria passione perché ognuno di noi dentro all'interno di se stesso ha la sua passione, scoprirla e perseguire il sogno fino alla fine. Questo è quello che mi ha portato oggi ad essere il campione d'Europa. Wow!